Ciao a tutti siamo qui allo stand Shimano per presentarvi il sistema Steps. Chiediamo a Ilmer gli highlights di questo sistema. Ok, can you tell us some highlights of the Steps system? Sì, abbiamo il completo Shimano Steps system, il primo highlight è il drive unità, è l'occhio del sistema e abbiamo meno weighto, abbiamo 3200 gram, abbiamo 15 Nm max, quindi questo è abbastanza bene e questo funziona molto bene con le altre componenti che abbiamo specchi per la bicicletta Quindi, per esempio, il prossimo highlight è il motore di DI2 Allora, il principale highlight naturalmente è il motore, che è molto compatto, estremamente leggero, 380 grammi circa, lavora in sintonia, in armonia con gli altri sistemi L'altro è il DI2 che è il motore, il cambio elettronico, sempre Shimano Vediamo cosa ci dice del DI2 Sì, il DI2 è un'ottica di questo sistema è un'ottica di 8, in questo caso E questo permetà il cliente di ride la bicicletta molto semplice e senza problemi Quindi, se tu ride la bicicletta e ti schifzi, non hai problemi con il meccanico Per esempio, devi essere attenzione, mentre puoi pulire il braccio Quindi, puoi andare a pedalare come vuoi E il DI2 è un'ottica di ottenimento molto semplice per ride la bicicletta, molto semplice Allora, il DI2 è molto facile da gestire, naturalmente in questo caso è un otto rapporti Aiuta moltissimo anche il neofita a pedalare perché è facile il cambio E in questo caso il cambio elettronico è anche gestito da un motore elettrico Che rende facilissima sia la pedalata sia il cambio Ed è anche molto soft, leggero, tutto il sistema di proprio cambio Forse un'altra cosa che devo dire Vedete qui il piccolo cable, questo è l'e-tube Siamo già conosciuto questo cable da Dura E prendiamo il DI2 e anche l'Alfine DI2 Ciò che permette gli clienti o il bici Che permette il cliente, il bici, la bicicletta Per permettezioni e la bicicletta Per rendere facilmente coi Cosa c'è una caccia che si messe in un'attività Quindi c'è una caccia che si mette in un'attività C'è una caccia che si mette in un'attività Una caccia di un'attività Cosa c'è un'attività Cosa c'è una caccia da la batteria C'è quasi tutto ciò che si necessite in questo caso quindi due schiftersi sul bar potete solo mettere sull'e-tube nel display e potete setterlo con un software che potete collegare sull'interface con la bicicletta quindi questo può essere facilmente setto dal tuo bicicletta c'è un cavo che collega il motore elettrico del cambio, del DI2 con il sensore del motore che poi va al display ai shifters e un grande cavo che va alla batteria grazie a questa connessione poi possiamo anche utilizzare l'interfaccia che è propria di Shimano, la e-tune per configurare tutto il sistema ora possiamo vedere l'interfaccia e-tune sì, non abbiamo l'interfaccia per l'interfaccia non abbiamo l'interfaccia ora non ho l'interfaccia mi sono scoperto di dire è solo una box dove mettete il porto USB su un'altra parte e il porto e-tube su un'altra parte quindi è abbastanza semplice mettete in e puoi iniziare ok non ci fanno vedere l'e-tune perché è in un box è solo per i dealer e serve a configurare alcuni settaggi propri del sistema steps come invertire i shifters o altre configurazioni particolari sulla potenza eccetera eccetera ringraziamo Ilmer e a presto stay tuned grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.